Le attività connesse alla raccolta, al trasporto e al trattamento delle emulsioni, dei reflui oleosi e degli oli esausti rappresentano sin dagli anni 70 il core business di Eco-Roy Service. Il servizio, rivolto a tutti i settori industriali, si snoda attraverso tre tappe principali. La raccolta, i reflui oleosi e le emulsioni vengono prelevati direttamente dai depositi di stoccaggio dei clienti tramite ritiro dei contenitori o attraverso l'aspirazione dei liquami oleosi. Il trasporto, i rifiuti oleosi vengono aspirati tramite autobotti o autospurghi con omologazione ADR. Il trattamento, gli oli usati, le emulsioni e i reflui oleosi vengono sottoposti a un processo di separazione per produrre energia sotto forma di combustibile alternativo. Eco-Roy Service è in grado di gestire ogni singola fase operativa con professionalità e precisione, intervenendo con uomini, mezzi e soluzioni ad hoc.